Ah! Amore, ma non ci farà male bere così di primo mattino, eh? Parò, il buongiorno si vede dal mattino, vita nuova senza iella, brindere! Auguri! Ecco! Allora, al ritorno della pace e... Alla tranquillità in famiglia... ...un ritorno di Carluccio! Questa non è una bella notizia, non bevi tu? No, la nostra religione non ce la consente, padre. Meglio così, così divagrisci tu e l'elefante indieno. Stai a Carluccio! Oggi siano benvenuti tutti nella mia chiesa, anche i bonzi. C'è il dottore? Sì. Padre, ti vogliono dal negozio! Allora è Berlusconi da Milano, quello ti ordina 5 o 6 mila, vinti registratori come niente. Dottore, adesso venga, questa notte hanno svaliggiato il negozio. Su, venga! Svaliggiato il negozio? Ma come hanno svaliggiato il negozio, me lo dici adesso? Allora non è servito a depilarlo. Hanno portato via tutto. Lo dovevo scorticare, scotannare vivo. Guardi qua, guardi. È già arrivata anche la polizia. Oh, la piazza è pulita. Lo dovevo disindegrare io, altro che ve lo irto. Buongiorno, commissario. Buongiorno. Buongiorno. Non ci sono segni di affrazione sulla porta? Stratto. Ho lasciato la porta aperta quando è venuta lei. Saranno guai pure con l'assicurazione a questo. Eh sì, perché adesso è una disgrazia presso all'alto, quello è una ruota. Secondo me c'è qualcuno che le porta a Iella. Senta, tocchi questo, questo è speciale. Sostano quattro ore per farglielo capire, signor commissario. Adesso l'ha capito che c'è uno che porta a Iella. Tocchiamo, tocchiamo. Siamo alle soglie del tuo vila, eh. La sfortuna continua a perseguitarci. Pare addirittura che ci abbiano sbagliato le forze. Dove l'hanno? Scusa, mi sto arrivato. Ciao, mamma. Sto bene, la bomba di Hiroshima è un trick-tractifolo dalla disgrazia nostra. Sto accendomi di loro. Hanno rubato tutto. Praticamente tutto. Ci hanno lasciato una cuffietta, quattro metri di cavo e un disco di Claudio Villa. Ah, Giovanni, dammi un tranquillante, ti prego, sto bello. Non so più, ma c'è quel bacio, ti guarda, niente. Cosa posso fare? Un tranquillante. Un tranquillante. Mariela, Mariela, vai a prendere un tranquillante per papà. Mi dispiace, mammina, mi ho buttato tutto qua. Ma come sarebbe? Carluccio dice che le medicine sono a veleno. Ad ogni un po' in questa casa ci si cura soltanto con le erbe. E allora fatevi gli impacchi di ortica al cervello, tu e rinocerò. Ma come io sto male e tu... Stai caro, stai caro. Dattemi un tranquillante, qualche cosa? Ma non ce l'ho, forse Jenny. Ah, Jenny, quella è nevrotica, urla sempre. Eh, quando la c'è che non c'è mai questo. Jenny? È uscita a fare la spesa. La spesa, io sto male. Macumba Macumbera, tradizione Lucifero. Se il demonio è il tuo padrone, uccidilo. Ma no! Ma no! E lei è la disgraziata, è Jenny che mi porta a ella, ha capito? Adesso ho capito tutto. Perché io l'ho maltratto sempre quella maledetta. Nera è lei e nera è la magia. Guarda, guarda. Ecco, questo sono io, queste sono le disgrazie mie. No, ma no! Io lo distruggo. Me ne ero presso a quel povero disgraziato di Marchella. Gli ho tolto tutti i peli indorno alla pella. Mi vado a chiedere scusa, Marchella. Stai caro. Marchella? Marchella? Alla. Alla, mi scusi. Volevo dire che è stato... Che notte, che notte. Che incubo. Ce lo siete aggrediti? Mia moglie si è svegliata con un bernoccolo così in testa. Io guardi, depilato, rasato, tutto. Anche nell'intimo. Pure lì. Chissà, forse un maniaco sessuale. Ma no, che maniaco sessuale. Ma lei non l'ha riconosciuto, non l'ha visto invece? No, era confuso, sa quel vino. Ma allora è un delinquente comune. Sa quelli che rubano i tappeti e ti fanno una barba? Eh? Sì. Sì? Ma quel suo genero stravagante. No, quelle bonds, quelle babbacioni, ce l'ho sulla punta dell'esofago. Si figuri se... Eccola qua. È sgraziata. Ma che hai fatto a mio marito una fattura? Che dite, signor? Ma che la femmina fedenne che mi ha pigliato, l'ombo mio, l'ha già fatto. Ma allora? Ma non c'era un virus? Sa quelle influenze che adesso arrivano dalle Filippine e ti prendono... Ma allora i capelli? Eh già. E questo pelo terribile che più taglia più ricresce. Ma lì, guardi, questo è il mio martirio. Questo? Sì, questo, questo. Ma è irto? È setoso. È setoso? Irto. Allora è lui, ecco. Aspetti, non si muove, eh? Che glielo strappo io. Magari, mi farebbe un vero piacere perché io provo sempre un certo senso a strapparlo. Però l'attenzione è secca, attenzione, nel grosso potrebbe cadere. L'avevo detto io. Potemare, papà! Potemare, Anna! Non si deve passare solo, moglie! Non ti rompono! Oh, oh! Che spavere, amore mio! C'era l'ha fatta una, l'ha fatta la rivale! Presto, mettetelo sulla lettiga, attenzione. Oh, oh! Un momento, merito! Una bella fortuna, però, è caduto dal quinto piano, non si è fatto niente. Vuol dire qualcosa? Parla, amore! Dica, 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 dica. Sì, decimi che non ha la forza di parlare. Parla! Tu! Presto! Arresto! 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 Arresto!